ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi un piccolo vlog un piccolo discutiamone insieme insomma perché volevo portarvi diciamo conoscenze di due cose la prima vabbè ve le anticipo così a grandi linee la prima la serie di oxygen not included che è stata proposta da me nove mesi fa e mai portata avanti e questa è una cosa per cui io devo scusarmi veramente tanto la seconda cosa ed è la prima che analizzerò è il fatto che l'altro giorno ricevuto un commento da qualcuno di da uno di voi che probabilmente adesso non è più iscritto al canale e che comunque mi commentava mi rispondeva insomma e lui mi ha praticamente accusato di mendicare delle degli abbonamenti e che quindi pure io facevo parte di quel gruppo di youtuber che mi indicano abbonamenti limite alla dignità e di qui e di là non ho dignità insomma e e ci sono rimasto un po così insomma perché io youtube ha dato la possibilità di fare questi abbonamenti l'ho inserita ho sempre detto che ovviamente i soldi se uno deve dare soldi li deve dare per cause ben più nobili poi ovviamente c'è anche quello ricco che fa già quello che deve fare e vuole dare un euro come come qualcuno ha già fatto insomma se già abbonato ma non è che io faccio dei contenuti a pagamento non è che io do dei vantaggi esclusivi e vedono i video solo chi paga perché non esiste io sempre detto che faccio questo per passione poi è vero anche la situazione che io sono un canale di estrema nicchia e gli sviluppatori la maggior parte non mi filano proprio quindi se un euro oggi un euro domani arrivo a sette euro e c'è il gioco indi che esce mi incuriosisce lo parendo magari poi faccio video mi fa schifo lo rendo e ho sempre comunque con i sette euro li investiti ma non è assolutamente obbligatorio perché credo che nessuno donerà mai a questo canale e non sarà mai un lavoro per me questo salvo non fare 100 mila iscritti in due mesi a quel punto allora valuterò di farlo come secondo lavoro ma non è la mia intenzione io l'ho sempre fatto per passione perché anche questo blog mi viene voglia di parlare e attacco il microfono e faccio un video non lo so ci sono rimasto un po così perché in effetti io ho messo questo abbonamento ma non è che io adesso punto a fregare soldi della gente anche perché credo che se la nonna da al ragazzo 50 euro dico non spendere per me cavoli tieniti lì cari e c'è il regalo della nonna insomma sono una persona che è sensibile a questo aspetto quindi non lo so non lo so poi qualcuno si è abbonato ha voluto dare un supporto per quanto siano cose futili videogiochi va bene lo so però qualcuno ha voluto dare un supporto ha dato qualcuno ha dato un euro qualcuno si è anche abbonato farlo faccio perché incoraggio quello che fai bene ci sta finisce lì io non è che perdo dignità per questo non sono qui a mendicare soldi io semplicemente detto ci sono questi abbonamenti che cosa succede succede chi si abbona magari ho delle che ci sentiamo lì contatto ti interessa questa che così ho fatto con chi si è abbonato ho detto guarda mi ha mandato che di questo la vuoi ti interessa c'è il minimo che io posso fare altre cose che si possono fare giocare insieme ma non è che devi pagare per con me è una cosa giusto per stare insieme anche perché ok questo utente è stato duro con me io sarò altrettanto duro e dirò anche che c'è tanto pubblico opportunista c'è gente che se non fai quello che vuoi si disiscrive c'è gente che viene guarda i video solo quando ci sono determinate condizioni quindi bisogna convivere con un sacco di situazioni quindi insomma se ho perso la dignità non lo so insomma però vabbè mi dispiace di aver dato un'idea del genere comunque sì su twitch ho messo le donazioni cioè ho messo il bot che lo spona però che lo che lo dice però non esiste neanche la live smette o il video non li faccio più vabbè chiudiamo questo discorso penoso per un altro discorso altrettanto penoso perché io nove mesi fa ho detto avevo iniziato il gameplay in una serie sono stato molto poco professionale e mi scuso con voi veramente perché non l'ho più portato avanti e vi spiegherò anche il perché e vuole essere anche un video guida per chi magari si avvicina per la prima volta a questo gioco questo gioco è qualcosa che di complicato il più non credo ci sia forse stationaires insomma io ho costruito questa base e mi sono reso conto che è veramente tosta perché beh prima di tutto vi dico le criticità i fili elettrici i fili elettrici portano solo un kilowatt e se voi con questo con i generatori così superate il kilowatt quindi più di 1000 watt che passano nel cavo il cavo si guasta per costruire cavi più avanzati servono dei metalli raffinati i metalli raffinati richiedono un raffinatore di metalli e il raffinatore di metalli chiede tanta energia quindi è un cane che si muove dalla corda insomma ma soprattutto la fonte più efficiente di energia è il produttore di petrolio guardate io ho scavato veramente tanto evitando la melma perché include dei germi veramente pericolosi ho costruito questa cosa ho cercato di comunque tenere l'ossigeno prodotto dalle alghe il terrario algale sono arrivato in questa questa sorta di bunker già per costruito sono andato avanti sono sceso di più sono arrivato qui dove vedete la temperatura qua veramente meno 18 meno 20 è una sorta non è forse il massimo tenere delle batterie così al freddo però già loro producono calore quasi sta tra l'altro anche sciogliendo del ghiaccio perché comunque sto producendo calore vedete che poi poi magari pian piano andrò a buttare fuori aria calda quindi scioglierò il bioma ghiacciato sono sceso sceso sempre di più fino ad arrivare da qui che sono meno 15 a qua che sono a 60 70 fino agli 80 90 100 gradi il bioma più in fondo che quello del petrolio perché la produzione di petrolio è veramente la più efficiente il problema è produce 4 kilowatt credo no il produttore di petrolio ne produce non so quanti ma parecchi 4 kilowatt ok giusto per farvi capire io qua ho trovato un geyser che produce gas naturale il gas naturale viene preso da questa pompa portato qua e questo un generatore di energia energia elettrica da gas naturale il problema è che produce acqua acqua salata se non sbaglio o adesso devo vedere acqua salata l'acqua salata viene buttata giù per forza di gravità scende va a riempire qui speravo di poterla fare evaporare ma arriva qui un giorno arriverà qua e come farò anche perché il pozzo di petrolio ha bisogno di acqua ma in questo caso pulita quindi io dovrò montare una pompa che prenderà l'acqua qua quella sporca la pulirà poi uno che sarà il sale e quindi la renderà pulita e a questo punto andrò a buttare qua dentro cioè avete una vaga idea di quello che è completato di quello che è scusate quanto è complicato il gioco qui produce il petrolio greggio in petrolio e produce anche del gas naturale quindi il gas naturale che è lo stesso che potrei andare a prendere e portare sempre qui per la produzione di energia elettrica perché continua a produrre acqua è veramente qua invece il petrolio che io produco lo porto un po qui al generatore petrolio un po qua che mi produce la plastica la plastica serve per andare alla produzione di altre cose di altri oggetti qua nella base invece io ho trovato qua un geyser che produce acqua pulita la butto tutto per forza di gravità qua sotto qua viene accumulata quando si riempie qui va qua sopra e qua andiamo un po in emergenza perché c'è il rischio di entrare nella base però contemporaneamente qua viene presa portata allora in due punti viene portata nei bagni e nelle docce nel lavandino e contemporaneamente viene portata anche quando attivo questa valvola qua che la fonte d'acqua che si può bere lo scarico dei bagni invece andrà a riempire riempire questo qui c'è una stazione dove si svuotano le bottiglie d'acqua sporca qua è possibile raccoglierla perché alcune colture richiedono l'acqua sporca soprattutto alcune colture richiedono anche determinate atmosfere tipo il cloro quindi dovremmo andare a creare delle stanze dove pompano all'interno del cloro perché il cloro non è respirabile è veramente un capolavoro di ingegneria questo gioco anche perché vedete questa batteria e non posso usarla perché serve un cavo questa è una batteria smart c'è tutta la parte delle automazioni sensore di movimento di pressione in pratica con la batteria smart cioè si attiva solo con una sorta di domotica quindi capite io ci sto giocando da oltre 30 ore e ogni volta ci gioco dieci ore una partita dieci ore arrivo un certo punto in cui guardo e dico noto troppo scoordinato il tutto voglio rifarlo e lo ricomincio quindi ragazzi il gioco è veramente complessissimo lo sto giocando tra l'altro la difficoltà facile quindi il morale non è così importante il decoro non è così importante il gioco è godibile comunque ma è difficile altrettanto difficile quindi guardate poi la panoramica dei gas è abbastanza buona però prima o poi arriverà anche la spada di damocle su di me cioè il la fine dei materiali e la fine delle alghe e che producono ossigeno quindi dovrò andare e scavarne altre è veramente veramente tosto poi dovrò raggiungere in alto lo spazio dove poter andare a costruire tutte queste cose guardate qua il vabbè il telescopio tutto il modulo di comando il modulo di ricerca il motore a vapore poi avremo il combustibile solo il motore a combustione solidi il trasporto solidi motore petrolio serbatoio del carburante guardate tutti trasporti speciali per poter mandare nello spazio i miei replicanti gioco davvero complicato sono veramente dispiaciuto di avervi illuso nove mesi fa poi avete detto ha fatto un video poi non ha più fatti e avete capito anche il perché bisogna passare il tempo a giocare solo a questo gioco ed è anche il motivo per cui cerco di non portare delle serie perché non so prima di tutto quanto sono bravo e soprattutto non so quanto tempo posso dedicarci comunque oggi vi ho portato due tematiche con cui volevo discutere di cui volevo discutere con voi fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre e alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie